Oltre 3.750.000 euro al fine di realizzare opere per la difesa della costa ravernate saranno inserite nel bilancio e nel piano degli investimenti del Comune bizantino per il 2012. Si tratta di interventi finanziabili con i proventi derivanti dagli accordi con Eni e 2 milioni saranno destinate al riassetto e alla ricca libratura dell'attuale sistema di scogliere a protezione dell'abitato di Lidio di Dante, mentre 700.000 euro saranno usati per interventi di difesa della costa. Per il posizionamento della barriera in rifa artificiale di Punta Marina Nord saranno poi utilizzate 750.000 euro, mentre i restanti 200.000 saranno utilizzati per la barriera in sabbia necessaria a proteggere le località dalle aggressioni marina durante l'inverno. Dall'amministrazione comunale Ravennate hanno spiegato come si intende dare continuità alla costante azione del Comune nei riguardi delle opere finalizzate alla prevenzione dell'erosione della renina, assicurando una programmazione di interventi di varia natura che tengano conto delle esigenze di ciascuna località balneare del Ravennate. Gli effetti della realizzazione di queste opere previste per l'autunno 2012 avranno la duplice valenza di proteggere il patrimonio costiero e ambientale da un lato e di garantire sul piano economico le condizioni necessarie per lo sviluppo della rete del sistema turistico balneare Ravennate. I rappresentanti degli stabilimenti balneare hanno espresso apprezzamento per l'impegno dell'amministrazione col conseguente vantaggio per gli imprenditori e i servizi incentrati su balneazione e turismo.